Le notizie in 60 secondi. La protezione civile della regione campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da ondata di calore fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Crolla palazzo a Torre del Greco, si registrano tre feriti di cui uno grave. Siamo in costante contatto con tutte le autorità proposte, lo scrive il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella. Il questore di Napoli ha adottato sette provvedimenti d'aspo nei confronti di altrettante persone che lo scorso 8 luglio avevano partecipato ad una rissa scaturita per futili motivi presso la discoteca Blanco. Questa mattina presso gli uffici della struttura commissariale di Ischia è stato siglato un protocollo di intesa tra il commissario Lenini e i carabinieri forestali per il controllo e la vigilanza del territorio durante le fasi messa di sicurezza e ricostruzione. Ischia Calcio, Gabriele Pastore resta in giallo-blu, Real Forio ha acquistato il centro con pista ex Ischia Giovanni Giuseppe Arcamone. Prossimo appuntamento alle 20.